E' colma, eh? Ma che sta facendo? Il video? Il video? Certo, certo. Allora, il numero zero, il numero zero, il guru del saper vivere. Possiamo dire senza tema di essere sbettiti che qua c'è una... Senza timore. Perché ha detto senza tema, senza timore. Senza timore di essere sbettiti che qui c'è una bella fetta dell'Ari Vinci, barrata del Talib. Perfetto. Dove siamo? Qui, località, siamo in Baviera, o nel Baden-Butterberg? Iolo, località Iolo. Fammi il Baden-Butterberg. 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 Senti, tu mi devi presentare la signorina di tuo navigatore. E' libera stasera. Silvia, Silvia. Silvia, di se sorte. Sera è libera. Lo lasciate libera. Sì. Concentrati. Danilo, vieni. Concentrati, concentrati, nuovo giocattolino di Tampo Giulietta Giulietta Giulietta. Eccolo qua. Finalmente in APRS. Finalmente in APRS. Il posto va giù ci sarebbe, ci si mette, ci si mette, ci si mette, qua giù ci sarebbe un po' di più. Ci si fa bene, no. Si vada se c'è un Stato. No, ma anche il signore. No. Si parano, uno di qua, uno di là, se ne fa due. K1 Radio Alphanoveppe, qua con noi. Non lo fai, non lo fai. K1 Radio Alphanoveppe. Ecco, prende la... Qui si guadagna di posto. Ecco qua. Abbiamo con noi i dati, ci siamo due di riguadagna. Con gli amici di Ani Vinci, a Frey the Shaffer. O Fra, o se la bagnano. Perché stavano finicando, stanno lì. Che ti dici? No, se ne mette due, se ne mette. Eccolo qua. Ci siamo divisi. Adio. Ci siamo divisi. Ma siamo vincoli, non sto in bagliate. Come siamo? Siamo uniti, siamo uniti. Per me stasera ci hanno fregato, ci dobbiamo andare alla sala dell'alto. Abbiamo ali, qua c'è ali in mezzo a noi. Come siete messi? Siamo messi? Siamo riusciti o no? Ti dobbiamo rispondere o no? Ma casa è un po' no? Benvi tutti. Come siamo essi? Eh, boi. Benvi tutti. Bolo. Benvi tutti. Bolo. Benvi tutti. Grande FSA, che ci dici? FSA ti dice la fame e sede. Fame e sede. No. Grande, ecco Giuliette Maike che ci dici. A greco le parole dell'FSA. Bene, fame e sede. Grazie. Tutto l'altro. Fame e sede, fame e sede. бумagg. Buongiorno. No. Grazie.